Una due giorni organizzata da Banca d'Italia per parlare di economia, in particolare di come affrontare le sfide strutturali dell'economia italiana, sfide che andranno affrontate con diversi strumenti, come ad esempio l'innovazione tecnologica. Ci concentriamo su fattori evolutivi chiave come l'innovazione tecnologica, la transizione ambientale e il miglioramento della dotazione del capitale umano. Parleremo dell'Italia, faremo qualche riferimento anche a questa regione, naturalmente, che in buona parte soffre anche queste stesse difficoltà. Certamente ci sono sfide cruciali che riguardano in particolare, a mio avviso, il capitale umano. L'Abruzzo, come sappiamo, ha dei centri accademici molto importanti, ma tuttavia abbiamo pure un rilevante fenomeno di fuga, di cervelli, di drenaggio, diciamo, di talenti verso altre regioni e l'estero, che sicuramente è un fattore molto, molto preoccupante, su cui bisogna intervenire. E' rappresente anche il direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, ma anche realtà importanti come Università e Gran Sasso Science Institute. La rettrice di quest'ultimo, Palen Verardi, spiega che loro fanno innovazione e ricerca da sempre, dunque contribuiscono in qualche modo al sostegno dell'economia. Il GSSI nasce come uno strumento di rilancio economico del territorio, quindi anche se noi facciamo ricerca di eccellenza, in realtà abbiamo questa vocazione a cercare di avere ricadute sul territorio, sia come collaborazioni dirette che poi, più indirettamente, formando persone che possono poi entrare nel mercato produttivo. Certo, ora, non è facilissimo, no? Come al solito noi scontiamo il fatto di essere un'area interna, con problemi di collegamento, con magari una minore vocazione all'imprenditorialità, ma il fatto che esiste qui l'Università e il Gran Sasso Science Institute, Tutti insieme siamo un elemento di attrazione, di intelligenza, di cervelli e poi di manodopera ad alto livello di formazione.